mamma ecco come fanno schifo i miei capelli forse forse sì ed eccoci qui ragazzi finalmente sì devo andare a tagliare i capelli oggi parleremo del mio desk setup e di quelle modifiche strutturali che vi dicevo in qualche video fa quindi non perdiamo tempo e anzi forse prima vado a fare un tè ok ora siamo pronti possiamo cominciare ed eccoci qui ragazzi finalmente siamo di nuovo qui per parlare del mio desk setup dovrò portare delle piccole modifiche ma soprattutto per quanto riguarda il cable management ho avuto dei problemi e devo assolutamente risolverli quindi non perdiamo tempo e passiamo direttamente sotto ma prima ovviamente 1 2 3 ehi ehi ok ora si può cominciare ed eccoci qui ragazzi sono qui sotto la mia scrivania e guardate un po' i sostegno non hanno tenuto un cavolo e quindi è andato tutto allo sfacascio risalviamo questo problema prima di tutto dovrò smontare tutte le prese quindi partiamo con questa che ho staccato la lampada bene già due cose eliminate questo come lo togliamo come 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 non mi farà arrabbiare solo ce la farò ce la farò ce la farò non ce la farò vado a prendere il trapano mi tocca ed eccoci qui il trapano l'ho preso si è scorciato ora andiamo a sviluppare ragazzi spero di essere a fuoco ho smontato il pannello ho tolto i sostegni adesso non mi tocca che togliere tutto ciò che poi verrà montato su questo pannello ovviamente come non possono chiamarmi mentre lavoro pronto ok ragazzi hanno finito di disturbarmi per modo di dire e riprendiamo il lavoro forse ce l'abbiamo fatta no devo prendere il martello mi odio vado eccoci qui io e il mio amico martello ok faticata fatta e ora passiamo a sistemare un po' i cavi oh mamma un attimo solo allora ragazzi ora vi faccio vedere cosa ho comprato ho comprato 50 di queste comode slip slip skip basetta di fissaggio per fascette e ho preso una due tre quattro cinque sì sono 50 e cento fascette come le chiamano qui fascette per cablaggio allora come funzionano queste si prende la forbice questa si taglia ok si prende una di questa si toglie il biadesivo e si posiziona dove crediamo che dovrebbe andare il cavo guardate tanto non vedo un cazzo ma in pratica questo funziona così con la fascetta oh ragazzi sono distrutto dopo circa un'oretta e mezza di lavoro ce l'ho fatto ho finito e adesso vi farò vedere il risultato dovrò ancora tagliare tutte queste fascette in eccesso ma diciamo che siamo a buon punto tutto il livello di ciappette con fascette incorporate è finito e adesso non mi tocca che tagliare questo e qualche ultima cosetta e siamo a cavallo ok ragazzi sono ufficialmente distrutto ho finito finalmente non mi tocca che mettere a posto queste ultime cosine anche qui dovrei mettere le ultime cose a posto ma è venuto veramente benissimo adesso vi farò vedere nei minimi dettagli tutto quello che ho fatto e come è venuto il mio lavoro è venuto Oh ragazzi dai vi prego concedetemi gli ultimi dieci minuti senza cappello Avrò dei capelli assurdi Ovviamente mi mandano messaggi Sì devo andarmi a tagliare i capelli Forse l'ho detto anche all'inizio del video Ma Molto meglio no? Devo andarmi a tagliare i capelli Sì ragazzi Il lavoro che dovevo fare l'ho finito e terminato Quindi non posso dirvi altro che il video finisce qui E ragazzi vi raccomando Se i video vi stanno piacendo Fatemelo sapere qui sotto nei commenti Lasciate un bel mi piace se questo video vi è piaciuto E noi ci rivediamo domenica prossima Sempre qui sul mio canale YouTube